Anticipazioni in segreto, puntate spagnole. Fe uccide la gemella Caridad. Abbiamo già avuto modo di anticipare riguardo alle anticipazioni in segreto sulla trama delle puntate spagnole che arriverà presto a Puente Viejo Caridad, la sorella gemella di Fe, la domestica di Francisca Montenegro. La donna è molto lontana dall'essere solare e simpatica come Fe, anzi risulterà cupa, malinconica e quasi ossessionata, come se nascondesse qualcosa di davvero scottante. La permanenza di Caridad si concluderà in tragedia, come scopriremo leggendo di seguito. Prima parte. Caridad e Fe, un oscuro passato. Fin dal suo arrivo a Puente Viejo, Caridad, la gemella di Fe, è apparsa molto diversa da lei, a dispetto dell'incredibile somiglianza fisica. Il brutto carattere della donna è acuito dalla cattiva salute che, come scopriremo, sembra dipendere proprio da Fe. La domestica di Francisca confesserà infatti a Mauricio di essere responsabile del fatto che la gemella sia rimasta disabile, perché molti anni prima Caridad era caduta in un burrone fuggendo dopo averla sorpresa con il proprio fidanzato. Seconda parte. Un'accusa infamante. Caridad farà di tutto per vendicarsi della sorella, che odia profondamente. Al momento la cosa più opportuna da fare le sembrerà distruggere la sua felicità. A questo scopo, ella cercherà di rovinare il suo rapporto con Mauricio, ed accuserà il capomastro Godoi di averla violentata. Fe sceglierà di fidarsi dell'uomo, e così, almeno momentaneamente, il piano di Caridad fallirà. La malvagia, però, non si arrenderà, e cercherà addirittura di uccidere Mauricio per vendicarsi della sorella. Ultima parte. Fine di un incubo. La perfida gemella di Fe, infatti, cercherà dapprima di avvelenare il braccio destro di Francisca versando un veleno nel suo bicchiere. Mauricio, infatti, dopo aver bevuto dell'acqua, stramazzerà al suolo, non prima di aver chiesto a Caridad, improvvisamente sopraggiunta, se sia responsabile di questo. A quel punto, la donna brandirà un paio di forbici per uccidere Mauricio. Sarà proprio in quell'istante che entrerà in cucina Fe, che, per salvare il suo amato, ucciderà orribilmente la sorella. Sconvolta, la domestica sarà aiutata, nemmeno a dirlo, da Francisca, che farà scomparire il cadavere. Si concludono le anticipazioni in segreto, e vi raccomandiamo di non perdere le prossime novità che riguarderanno la trama delle puntate spagnole.